qui siamo in mezzo alle più belle colline dei vini di braganze pista ciclabile favolosa come potete vedere a nord della gasparona o della piede montana come si dir si voglia e questa è una pista ciclabile molto tenuta bene perfettamente asfaltata allo stato di abbandono parte così la segnalazione di un nostro telespettatore che ci vuole far vedere la situazione della ciclabile di via gelsi a breganze che a fronte di un fondo perfetto presenta una situazione dell'erba che perfetta proprio non è un rapido giro in bicicletta conferma che lo stato del verde a ridosso della pista ciclopedonale è lo stesso per un lungo tratto segno che da qualche tempo nessuno è passato a sfalciare e fra poco lo spazio per bici e pedoni sarà davvero ridotto all'osso